Lancia chiama, la regione risponde. Sul Superbonus, la giunta regionale ha approvato un progetto di legge per l'acquisto dai crediti fiscali esistenti in seguito ai lavori di Superbonus 110%. Risposta che arriva dagli assessori Nicola Campitelli e Mario Quagieri. Lancia, attraverso il presidente regionale Antonio Dintino, aveva lanciato un appello accorato per un intervento risolutivo. Ora la proposta di legge dovrà andare in aula per l'approvazione. Si tratta di un'operazione senza costi. Abbiamo un tessuto economico legato al mondo delle costruzioni in grandissima difficoltà e non parlo solo di imprese ma anche di famiglie, di professionisti che stanno in una situazione veramente precaria a causa del blocco dell'accessione dei crediti. Noi attraverso questo progetto di legge, che ieri abbiamo approvato in giunta regionale su iniziativa del sottoscritto e del mio collega Mario Quaglieri, vogliamo mettere la regione Abruzza nelle condizioni di poter acquistare i crediti fiscali esistenti in seguito ai lavori Superbonus 110. Che significa? Significa che la regione acquista dalle banche e poi compenserà tramite i contributi, le imposte che la regione paga tramite l'F24. È un dato molto molto importante perché è un'operazione che consentirà di dare una grandissima boccata di ossigeno a tutto il tessuto economico della nostra regione, perché è un'operazione innanzitutto a costo zero per la regione Abruzzo, ma soprattutto impegnerà le banche a loro volta ad acquistare i crediti a famiglie, imprese e professionisti abruzzesi e quindi non fuori regione Abruzzo. Ovviamente che stanno eseguendo dei lavori di miglioramento sismico e efficientemente energetico su edifici siti nella nostra regione. Quindi proprio per questo motivo è una risposta che noi vogliamo dare alle tante famiglie e imprese abruzzesi che oggi si trovano in una situazione di difficoltà. Grazie. 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 Grazie.